Win3 con un footprint internazionale ha completato il suo percorso nella trasformazione digitale a favore delle aziende partner. La connettività oggi è un fattore abilitante, è un elemento sostanziale per rendere fruibile ai cittadini una serie di tecnologie necessarie. Parliamo di telemedicina, parliamo di wearable per monitorare da remoto pazienti cronici, parliamo di analisi di dati che permettono alle istituzioni nonché alle strutture sanitarie di poter intervenire secondo politiche data driven. Win3 oggi è l'alleato giusto per accompagnare in un percorso sicuramente complesso ma facilitabile da competenze ed è l'azienda giusta su cui costruire il percorso di successo. Oggi come Win3 crediamo che il successo sia dato da una relazione forte, sia dato da una presenza e un percorso di accompagnamento consulenziale che parta dalle tecnologie ed arrivi ad un piano di azione sul territorio e che porti il cittadino al centro del sistema.